Cari amici di Agronotizie, ben ritrovati da Giuseppe De Vittis. Cari amici, tendenza per i prossimi 15 giorni c'è l'anticiclone, quindi tempo quasi dappertutto bello e via via sempre più caldo, ma occhio perché sul nord Italia ci sarà ancora dell'instabilità, dove? Le zone alpine, prealpine, poi tra l'11 e il 13 l'instabilità, tra il 12 e il 14 l'instabilità potrà divenire un po' più convinta sul nord Italia, con qualche sconfinamento anche su alcune aree di pianura, però vedete comunque sul resto d'Italia sempre più caldo, e quindi al centro e al sud le temperature saranno in deciso, deciso aumento, quindi l'estate si riprende agosto a parte appunto il nord Italia e soprattutto le zone alpine. Per il momento è tutto, buon proseguimento, vi ricordo che dal pulsante sottostante potete visualizzare le previsioni di casa vostra. Arrivederci!